Austro Rossi, oggi il pareggio per la Reggiana Pontedera, questo punto equivale a un punto guadagnato e due punti persi. Secondo te la squadra poteva fare meglio in fase offensiva o in fase difensiva? Sicuramente è sempre un punto guadagnato, ovviamente se guardiamo come è venuto, è ovvio che andando sotto due volte credo sia un punto guadagnato. È normale che parlando della prestazione non siamo contentissimi perché abbiamo creato abbastanza, il primo tempo non siamo stati cattivi nel concludere, nel trovare la giocata importante. Nel secondo tempo credo ci sia vista una Reggiana diversa e con un po' più di furore e cattiveria per poter recuperare la partita. Tutto sommato è un punto che non ci rende contenti perché siamo arrabbiati per questo risultato, però lo prendiamo, lo portiamo a casa e restiamo in testa la classifica che è la cosa fondamentale.